La solidarietà, l'inclusione di genere, il fair play, la prevenzione del bullismo e il rispetto per l'ambiente in occasione del mese della genitorialità su Smart Tales, applicazione per smartphone e tablet realizzata dalla start-up barese Marshmallow Games, è presente l'Unicef Italia con una compilation che raccoglie contenuti con un'attenzione particolare a temi di estrema attualità. L'Unicef ha cominciato ad esplorare questo nuovo settore innovativo, cogliendo le opportunità di comunicazione advocacy per tutelare i diritti dei bambini e delle bambine, massimizzando gli effetti positivi del gioco e dell'apprendimento digitale, si è soffermato sull'attività di start-up barese, impegnata da sempre nell'ambito delle materie STM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Smart Tales possiamo definirla come il Netflix dei racconti interattivi, ha una grafica molto semplice, molto intuitiva, ha un menu scrollabile verticalmente e orizzontalmente, un po' come Netflix, ci siamo ispirati a questo, per poter permettere ai bambini di poter fruire facilmente di tutti questi contenuti, contenuti che sono tanti e vengono aggiornati ogni due settimane, quindi un'app che non solo è molto ricca ma tende a diventare sempre più ricca nel tempo. La partnership tra Smart Tales e Unicef Italia nasce dalla voglia di valorizzare i contenuti editoriali presenti nell'app Smart Tales.